Buonasera, siamo di nuovo qui alla Sherwood Web TV, abbiamo ancora nelle orecchie ma soprattutto nello stomaco le note possenti e profonde dei White Mega Giant che si sono appena esibiti sul palco centrale. Adesso siamo qua in compagnia dell'ospite che chiuderà la serata dedicata a Wires 2, stiamo parlando del reading di Razza Partigiana che verrà fatto da una composizione di musicisti di cui poi andremo a parlare e di Vuming 2, cioè Giovanni Catabriga che è qui al mio fianco, ciao Giovanni. Ciao. Allora, questo progetto che appunto prende il nome di Razza Partigiana è un reading, quindi appunto ci saranno testi scritti mescolati a testi musicali, a musica. Però tutto questo nasce da uno studio che è durato, che è stato laborioso, che è stato appunto approfondito. Su che cosa verte questo studio? Allora, beh, mi piace pensare che nasca prima di tutto da un incontro, perché ormai dieci anni fa io ho conosciuto in una clinica per malattie mentali, Antar Mohamed Marincola, che è il nipote dell'unico partigiano italo-somalo che abbia combattuto nella resistenza italiana, quindi un partigiano particolare del quale non si sapeva nulla o quasi nulla, io non ne sapevo niente. Andavo in questa clinica a trovare un amico e Antar faceva l'educatore per una cooperativa che lavorava lì. Lui venne a sapere che io appunto non ero soltanto l'amico di un ragazzo ricoverato in questo posto, ma avevo anche partecipato alla stesura di Asce di Guerra come membro del collettivo Wuming e dentro Asce di Guerra effettivamente noi avevamo raccontato tante storie sghembe e oblique di resistenza, quelle delle quali di solito non si sente parlare nemmeno il 25 aprile. E quindi pensava che insomma fossi la persona adatta per provare a tirare fuori dagli archivi la storia di suo zio Giorgio Marincola, che appunto è nato nella Somalia italiana da un sotto ufficiale dell'esercito fascista e da una donna somala del posto e poi è cresciuto in Italia, ha fatto le scuole a Roma, ha incontrato un professore antifascista, è entrato nelle brigate partigiane di giustizia e libertà, ha combattuto a Roma finché Roma non è stata liberata nel giugno 44 e non contento si è fatto paracadutare nel nord Italia, ha continuato la lotta anche nel nord Italia fino alla morte ed è morto nell'ultima strage nazista sul territorio italiano il 4 maggio 45 in Val di Fiemme. Però quando Antar mi raccontò questa storia sapeva molto poco di suo zio perché chiaramente quando ti dai alla vita clandestina non è che poi puoi scrivere delle lettere o raccontare dei particolari. Era andato via un giorno di giugno da Roma, Giorgio aveva salutato la famiglia con un pretesto e poi un anno dopo sono arrivati degli amici a dire che era morto. Si sapeva quindi molto poco, gli era stata conferita una medaglia d'oro al Valor Militare a metà degli anni 50, c'era la motivazione della medaglia d'oro come al solito scritta in questa lingua buona per le lapidi insomma no? Buona per i monumenti però con pochi dettagli e allora io dissi ad Antar guarda io non sono in grado di raccontare questa storia mi piacerebbe tanto credo che all'Italia farebbe bene sapere che nella resistenza in questo movimento così composito vario multiforme c'era anche un partigiano nato nelle colonie da un colonizzatore e da una colonizzata però non so come aiutarti l'unica cosa che posso fare è dire quel poco che sappiamo scrivere quel poco che sappiamo nella postfazione al libro Asce di Guerra che sta per uscire per Einaudi che la doveva ripubblicare e quindi ho fatto questo una paginetta e basta quella paginetta però ha fatto sì che pochi giorni dopo la ripubblicazione di Asce di Guerra mi iscrivesse un jobster cioè un seguace un iscritto al nostro blog dicendo io a Roma mi sono imbattuto nella stessa vicenda un partigiano romano Mario Fiorentini mi ha detto che effettivamente c'era questo partigiano nero questo partigiano con la pelle scura questo italiano nero che ha fatto la resistenza a Roma e poi anche altrove e mi sono messo sulle sue tracce insieme a un amico che fa lo storico e che ha le competenze per scavare negli archivi quindi da lì è nato un processo parallelo mentre questi due ricercatori studiavano la vicenda di Giorgio Marincola per approfondirla e per poi raccontarla in un saggio storico in una biografia mi passavano i materiali via via che li scoprivano in una totale condivisione dei documenti e totale accesso libero a quello che loro trovavano alla loro ricerca e io nel frattempo impostavo una scaletta per costruire uno spettacolo un reading un concerto che facesse conoscere questa storia anche in altri ambiti capivamo che una biografia storica avrebbe raggiunto un certo pubblico e che per far conoscere davvero questa storia bisognava raccontarla in ogni modo possibile quindi parallelamente io ho costruito lo spettacolo e loro hanno scritto il saggio razza partigiana quindi veicolata anche attraverso la musica che comunque è una specie di calamita per magari chi non non sarebbe così permeabile a un messaggio di questo tipo quindi parliamo anche brevemente della parte musicale chi sono i musicisti che ti accompagnano allora i musicisti sono amici con cui ormai collaboro da da una decina d'anni abbiamo fatto vari spettacoli sia reading semplicemente tratti da romanzi in cui si leggevano parti del romanzo insieme alla musica sia questo genere di spettacoli invece in cui la musica non è un sottofondo alle parole ma i testi e i brani musicali vengono costruiti insieme quindi in parallelo e poi montati insieme quindi diciamo che c'è una scansione musicale che regola le scansioni del testo e come insomma io ascolto le battute come farebbe un cantante soltanto non canto ecco questo per dire che l'interazione è piuttosto stretta e musicisti sono egles o macal che lo storico chitarrista dei massimo volume stefano pilia che oggi non è presente perché è in tour con rocchia tra ore con cui ha iniziato a suonare e quindi è diciamo l'altro chitarrista ma riusciamo ogni tanto a farne anche a meno e attualmente suona anche lui nei massimo volume perché lui ed egle hanno cominciato a suonare appunto proprio facendo questo genere di spettacoli di reading si sono piaciuti e quando i massimo volume si sono riformati hanno deciso di suonare insieme e poi la la sezione ritmica è formata da federico oppi e da paul pieretto rispettivamente batterista percussionista e bassista e elettronico diciamo che sono anche la sezione ritmica di un gruppo forse quasi più noto all'estero che in italia che si chiama classic education che al momento è in una fase di stop perché entrambi sono diventati da poco papà e quindi fanno fatica a fare quei tour estensivi che li portavano fino ad Austin o che li portavano in giro per l'Europa e al momento insomma fanno solo la collaborazione quindi diciamo che razza partigiana è una delle poche occasioni in cui li si può ascoltare suonare in questo periodo perché altre cose non riescono a farle quindi ecco un ulteriore motivo per per non mancare il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito ma continueremo ad ascoltarti e a vederti anche di persona più tardi appunto ripetiamo alla conclusione di questa serata vming 2 reading di razza partigiana questo studio interessantissimo su un combattente partigiano italo somalo quindi una di quelle storie che non si sentono raccontare non si leggono nei libri di storia ma che vale la pena di conoscere certamente ed è questo che i vming in generale hanno sempre cercato di fare riportare insomma al popolo le storie del popolo giusto va bene ti ringrazio grazie a te grazie mille giovanni grazie a tutti e arrivederci a dopo allora a dopo grazie a te grazie a te grazie a tutti